Pasquetta 2022 in piazza San Pietro è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti tanto. Essere in quella piazza insieme ad altri 80.000 ragazzi ci ha fatto capire che non siamo mai veramente soli. Il viaggio è stato lungo e faceva molto caldo, ma ne valza la pena. Viva Papa Frank! L'esperienza di lunedì a Roma è stata fantastica, mi sono divertita moltissimo e è stata una vera emozione poter vedere il Papa e ascoltare da vicino le sue parole. Andare a Roma è stata un'esperienza molto bella ed emozionante, mi sono divertito tantissimo e vedere il Papa passare così vicino a noi è stato molto bello, non vedo l'ora di passare una Pasquetta simile. Essendo io stessa una scout, una cosa che ho notato, mi ha stupito e mi ha fatto veramente tanto piacere è stata vedere la quantità di scout lì presenti in Vaticano a farsi vedere e sentire. Mi hanno detto da dove provengono, infatti c'erano alcuni di Roma e poi c'erano altri dell'Abruzzo e del Veneto. Ci ha fatto piacere vedere con i nostri occhi che il percorso che stiamo seguendo come gruppo è condiviso da moltissimi altri giovani in tutta Italia. Vorremmo ringraziare la comunità pastorale di Arcangeli che, assieme alla pastorale giovanile di Livorno, ci ha permesso di partecipare a questa bellissima iniziativa. Vorremmo ringraziare anche la diocesi stessa di Livorno che ha regalato a ciascuno di noi il kit del Pellerino.